Questa mattina i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato 21 persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea. Gli arrestati vicini al gruppo camorristico facente capo a Mascitelli Bruno o Canotto sono gravemente indiziate a vero titolo di associazioni di tipo mafioso finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti della commissione di reati in materia di armi contro il patrimonio e la persona. Nello specifico è stata documentata l'esistenza di un'organizzazione di matrice camorristica a cui vertice si poneva Mascitelli, un'organizzazione dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente di varia natura, commercializzate nelle piazze di spaccio controllate e con una specifica suddivisione dei ruoli dei sodali, promotore, affiliati, gestori di piazza, addetti al recupero crediti e pusher. Sono state ricostruite le dinamiche criminali che hanno portato al ferimento di un noto pregiudicato di Castello di Cisterna avvenuto il 26 ottobre 2016. Un commando armato composto da quattro persone a bordo di due autovetture esplose diversi colpi di arma da fuoco contro Iannuale Roberto, figlio di Iannuale Vincenzo o Squadrone, elemento di spicco dell'omonimo clan operante in Castello di Cisterna e comuni inimitrofi. Un episodio da inquadrare nei contrasti sorti per il controllo del territorio e delle piazze di spaccio tra esponenti del gruppo Mascitelli e quelli legati al gruppo Iannuale. Nel corso delle indagini sono state sequestrate quattro pistole, un fucile mitraiettore e notevoli quantitativi di hashish e cocaina.